Stiamo lavorando sia con torrette perché visto che da noi quando parliamo di turismo parliamo delle spiagge di torrette perché c'è molto campeggi e stiamo provando di fare la pista più lunga del mondo del Giro d'Italia, ma non la pista in bicicletta ma il gioco di una volta con le palline. Siamo in fase embrionale, grossa collaborazione dei bagnini, la Proloco, stiamo tutti avendo un bel successo perché è qualcosa che ci teniamo. Pensate di organizzarla per la prossima estate? Per quest'anno, dovremo aprire con il botto. Non è detta che ci saranno anche dei nomi eccellenti del ciclismo a giocare con noi e con le palline. Quindi ad un basso costo sarà possibile far parlare della città di Fano in tutta Italia? Non un basso costo, a costo zero. Qui si parla molto di volontariato, avremo alcuni sponsor che sono già interessati a questo evento ma quello che ci interessa è la partecipazione sia del bambino che del ragazzo di 93 anni che giocherà con noi con le palline.